Allora, oggi l'argomento è il progetto di vita. In realtà il titolo completo, però non l'abbiamo messo per motivi di marketing, è il progetto di vita feasibility, ok? Perché avere progetti di vita, avere una vita totalmente orientata a un determinato obiettivo per poi morire e non trovare i frutti di questo lavoro dall'altra parte, spero concorderete con me che sia uno spreco di tempo. Quindi cominceremo un po' a ragionare su questo concetto del progetto di vita e nella parte finale, inshallah, ci sarà una parte molto pratica, ovvero proprio cercheremo di stilare un documento, ok? All'interno del quale, quel documento, cioè è il documento più importante della vostra vita in realtà, perché all'interno di quel documento ci sono le informazioni che inshallah indirizzeranno le vostre azioni, e ognuno avrà delle risposte diverse, quindi non è che sarà lo stesso progetto di vita per tutti. Ognuno, in base al proprio percorso, ai propri caratteristiche, ai propri talenti, eccetera, eccetera, avrà un documento con delle caratteristiche specifiche. Per cui, mi raccomando, rimanete con noi, inshallah, fino in fondo. Mashallah, noi volevamo il quorum per fare questa call, era 40, mashallah, siamo a 76 persone, quindi complimenti, evidentemente c'è un bel interesse attorno a questo argomento. Prima domandina, veloce veloce, e rispondete in chat, perché abbiamo un mucchio di cose su cui lavorare. Prima domanda veloce è, come mai vi interessa questo argomento? Cioè, uno dice, dovrei dirlo io perché è importante. Vorrei partire da, vorrei partire da voi, che vi interessa questo argomento? Cosa vi ha tirato a questo tipo di, a questo tipo di call? Cosa vi aspettate, no? Scrivete un po' la vostra così, almeno anche io costruisco anche il discorso, anche sulla base di quello che vedo, che vedo scritto. Perché sono in una fase della mia vita in cui non so ancora bene cosa voglio fare davvero. Ok, grazie Melika. Capire quanto sono sulla giusta strada o meno. Ok, quindi da una parte è una persona che non sa ancora bene cosa vuol fare, dall'altra una persona che vuole capire se ciò che ha strutturato, tra l'altro lui è un corsista di chiarezza mentale, se la direzione che ha identificato ha senso, oppure se ci sono delle cose, delle cose da aggiustare. Matteo Karim dice, mi aggiungo a quanto detto Melika, quindi perché sono in una fase della vita in cui non so ancora bene cosa voglio fare davvero. Francesca dice, una zoom di questa è una bussola per i credenti, inshallah. Najwa perché so quale sia il mio progetto di vita sulla Terra, ma sono qui lo stesso per ricordarlo alla mia NEFS e schiarire di più le idee. Quindi nuovi, Najwa dice, nuovi spunti da una parte, dall'altra parte ricaricarsi e ricaricarsi e riorientare la bussola. Serena dice, perché avevo iniziato il mio percorso di rinascita anche grazie all'ISLE, però mi sento un po' con il freno a mano e vorrei ritrovare la concentrazione per i miei obiettivi. Monica dice, io sono in una fase di stallo e ho bisogno di sbloccare. Parmina dice, è un tema attuale, una delle grandi mancanze di oggi. Hamza dice, siamo in un periodo storico in cui tutto deve essere rimesso in discussione e riorientarci, a differenza di quello che ci è stato instillato. Molto bene, Hamza. Per capire se i miei obiettivi nella vita siano veramente consone a quello che si può chiamare progetto di vita. Brava Hajar. Mariam dice, per trovare la mia strada mettendo al centro la mia missione da donna musulmana. Brava Mariam. Anch'io come Melek o come Melika. Perfetto. Ho un obiettivo ma cerco di avere chiarezza più chiara e avere una giusta direzione. Kinen dice, ritrovare me stessa e la mia vecchia determinazione andata via a causa di esperienze negative senza andare sempre a tentativi e errori. Spero sia un'opportunità per creare una vita autentica, appagante, allineata con chi sono veramente. Voglio che il senso di scopo rimanga sempre vivo. Ok. Perfetto. Perfetto. Mashallah. Allora, sono molto contento che queste siano le aspettative. Mashallah, siamo 87. I numeri crescono e penso che fra poco rimarrà, sarà difficile. Vi sconsiglio vivamente di uscire per ritornare perché potreste non riuscire a ritornare fra poco se superiamo i 100. Io non mi aspettavo questi numeri. Pensavo che fossimo, saremmo stati una quarantina. Rimanete con noi perché vedremo una serie di concetti di consapevolezza iniziali. Però poi la parte pratica sarà verso la fine. Bene. Abbiamo visto insieme le vostre esigenze e alla luce di quello che avete scritto vi posso dire che questo è il workshop giusto. Partiamo con un po' di definizioni per metterci d'accordo su cosa stiamo parlando. Ok? Mettiamoci d'accordo su cosa stiamo parlando. Faremo così ragazzi. Per ogni domanda che farò, per ogni parte del workshop che farò, darò la possibilità perché dato che abbiamo tanti punti da affrontare, darò la possibilità, ok, di parlare al microfono a tre persone. Quindi alzate la mano. Gli altri però non devono tenersi le opinioni per sé perché è importante che leggiamo anche le opinioni degli altri. Quindi a rotazione cercheremo di far parlare tre persone per ogni punto col microfono, ok, a scelta, a scelta casuale. E poi gli altri li leggiamo in chat. Per cui contribuite tanto in chat, così state attivi e il contributo, cioè vi raccomando questa cosa qui perché alla fine di questa sessione potreste essere delle persone con delle consapevolezze in più oppure delle persone con un po' di cultura generale e basta sul progetto di vita. Per avere delle consapevolezze in più sulla vostra vita e sulle azioni da condurre poi più avanti nella vostra vita è necessario essere attivi. Quindi scrivete, date le vostre risposte perché sennò rimaniamo sull'ascolto teorico che rischia di non essere sufficientemente coinvolgente e rischia di non mettervi sufficientemente in gioco. La prima domanda è quindi cos'è un progetto di vita fissabile in lei? Come possiamo definirlo? Chi vuole parlare alzi la mano, intanto gli altri scrivano sulla chat. Ripeto la domanda. Cos'è un progetto di vita fissabile in lei secondo voi? Come possiamo definirlo? Un colla. È un progetto che mette al centro Allah, l'Islam e la Ummah. Muslim dice il progetto di vita è il piano del musulmano per essere califa di Allah sulla terra. Fantastico. Il livello di consapevolezza qua è alto ragazzi. Vivere non solo per se stessi ma anche per la comunità. Fare qualcosa di utile per gli altri, essere utile all'umanità. Molto bene. Avere uno scopo che sia utile nella vita e nella akhira. Dice la Tifa. Perfetto. Un piano che abbia uno scopo primario, come scopo primario quello di soddisfare Allah subhanahu wa ta'ala attraverso il proprio contributo personale nella società e nella Ummah basato sulle proprie inclinazioni. Qua stiamo arrivando a definizioni di alto livello. È un progetto di vita che tiene conto della nostra destinazione ultima. Riassuntivo ma efficace. Sara dice un obiettivo a lungo termine che mi crea soddisfazione e mi fa sentire per la Ummah. In realtà praticamente non dico che è stato detto tutto ma quasi. Un'idea che mette a sistema, attenzione, un'idea che mette a sistema, le nostre attitudini, valori e credenze, messo in pratica con l'intenzione esplicita di compiacere Allah in ciò che ci ha chiesto di fare. Molto bene, Parvida. Molto bene. La parola mettere a sistema è importante. In generale qualcosa a cui dedicare la propria vita. Riassuntivo ma molto efficace, rende l'idea. Sono belle sia le definizioni auliche ma anche le definizioni che vanno dritte al punto. È difficile trovare una vera definizione secondo me. Al momento io associo il progetto di vita al mio che lavoro voglio fare da grande ma riconosco che non è solo ciò. Ci sto lavorando anche se riconosco che non è facile capire appieno il significato di ciò. Parlo per me ovviamente. Ok. Pian piano chiariamo. È un progetto che rispecchia te stesso in maniera autentica sfruttando le proprie passioni, capacità, skills. Ma che anche, come detto prima, porto benefici sia nella dunia sia nella ahera. Ok. Allora adesso anche questo molto interessante e soprattutto il tema del rispecchia te stesso in maniera autentica. Attenzione, lo dico a Paola e lo dico agli altri, questo rispecchia te stesso in maniera autentica è molto bello da dire ed è giusto ma rischia di farvi cadere in delle trappole mentali che poi non vi permettono mai di essere sicuri se la strada che avete preso è quella giusta. Ok. Perché? Perché è definito in una maniera non afferrabile. Ok. Non. C'è una variabile che nessuno può dirti è così o non è così e neanche te stesso per te stesso. soprattutto quella, cioè perché tu continuerai per tutta la vita a chiederti ma rispecchia a me stesso in maniera autentica? Se tu ti poni questa definizione qui è bella, molto bella, molto vera, ma rischia di crearti una mezza crisi esistenziale ogni tre secondi. Ok. Quindi attenzione che molto spesso come esprimiamo le cose poi rischia di ritorcersi contro di noi. Ecco perché nelle definizioni io preferisco sempre mettere da parte un po' il romanticismo e tenere sotto controllo ciò che è touchable, tra virgolette, misurabile, no? Quindi non so se si è capita questa osservazione che ho fatto sulla tua definizione, Paola. Sblocca pure il microfono se vuoi. Sì, sì, ho capito, però quindi che termine vorresti, cioè che termine suggerisci di usare invece, quindi? No, è un progetto, cioè i termini sono stati usati anche nelle altre definizioni, va bene, cioè dipende da come giri la frase. Se ti intrappodi in questa costruzione della frase poi è ovvio che uno si sente costretto a trovare il termine giusto. Però alla fine un piano che abbia come scopo primario quello di soddisfare Allah, swan o'sha, attraverso il proprio contributo nella società e nella Ummah, basato sulle proprie aspirazioni e inclinazioni. È molto buono questo, questo qui, basato sulle proprie aspirazioni e inclinazioni. Molto bene. Ok? Io addirittura le inclinazioni le toglierei anche, perché anche lì poi uno diventa, ah ma sono portato meno, eccetera, eccetera. In realtà è l'aspirazione la cosa che conta di più, perché poi noi aspiriamo a delle cose che bene o male funzionano per noi. Quindi anche quello va molto bene. Comunque adesso più a piano definiamo sempre meglio. È un disegno da colorare con i giusti colori, quindi raggiungere un obiettivo e poter mettere una cornice a questo disegno per sentire di aver realizzato qualcosa di importante nel bene per noi e per la Ummah. Uyem dice il progetto di vita sabili è una forma di adorazione di Allah attraverso il servizio del suo creato. MashaAllah. Bella questa. È lo sviluppo di un esame che Allah ha segnato una volta che ci ha definito suoi vicari. Bella questa. Bella questa. Una bella angolazione. Una serie di obiettivi. Bello questo. Una serie di obiettivi in costante evoluzione che cambiano e si adattano alla nostra crescita personale con l'obiettivo più grande di ottenere la soddisfazione di Allah e di essere al servizio delle persone. Ok. Questi obiettivi è vero che sono in evoluzione però non la metterei come definizione, cioè al centro della definizione. È un buon angolo, una buona prospettiva. Però questi obiettivi ce ne sono alcuni che cambiano perché chiudo una tappa, apro la prossima tappa. Ok. E quindi in questo senso sì, sono in evoluzione perché sono in una fase della vita in cui l'obiettivo è questo. Nella prossima fase l'obiettivo è diverso. Ma sono tutti all'interno di quello che è il cappello del progetto di vita. Ok. Rispetto a una persona che magari ha obiettivi dispersi, che alcuni vanno in una direzione, vanno in un'altra, e c'è anche un po' di schizofrenia dentro la propria vita, questi obiettivi sono tutti sotto il cappello del progetto di vita. Se Iran dice pianificare secondo il piacere di Allah, che conosce ciò che è meglio per noi, più di comunque altro. Interessante. Yusuf picchia pesante, eh ragazzi. Sacrificare la tua vita pur di realizzarlo. Questo è molto bello perché aggiunge un pezzo, anche gli altri sono belli, ma questo aggiunge un pezzo che non era venuto fuori. Un progetto che in primis ci distingue, ci deve far capire, scoprire cosa ci distingue dagli altri. E poi usare questa nostra autenticità per allevare se stessi e di conseguenza la Umma. Molto bella anche questa, però ribadisco il discorso che ho fatto alla definizione di Paola. Paola, scusa se ti prendo come esempio, ma era perché era esemplificativo. Un cammino che ti permette di rispettare i valori personali insieme alla propria fede. Sì, assolutamente. Proviamo a mettere un po' insieme tutto quello che è stato detto. Un progetto di vita fissabile può essere definito come un piano di vita strutturale, che orienta ogni azione e decisione verso il compiacimento di Allah, utilizzando i propri talenti, le proprie risorse, i propri sforzi, per, come è stato detto, servire il bene della Umma e dell'umanità in generale, secondo i principi dell'Islam. Quindi se vogliamo proprio stare super compressi, però metterci dentro tutto, questa potrebbe essere una definizione. È un percorso che non si limita alla realizzazione personale, no? Questo è un po' anche la differenziazione rispetto a tutti, diciamo, a tutti le trattazioni a modi crescita personale occidentale, ok? Quindi è un percorso che non si limita alla realizzazione personale o al successo individuale, ok? Ma è guidato da una missione più ampia e altruistica. contribuire al bene comune e alla diffusione dei valori dell'Islam, quindi della giustizia, della bontà e della verità, in armonia con gli insegnamenti di Allah subhanahu wa ta'ala e del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Questa è un po' la differenza tra sogno americano, poi lo vedremo, e un progetto di vita fissabile, ok? Per definirlo più chiaramente, però poi andremo a, come si chiama, andremo a vedere altri dettagli più avanti nella sessione di oggi. Per definirlo più chiaramente, sicuramente ci deve essere la componente di una missione altruistica, ok? Perché un progetto di vita fissabile ha come scopo principale il servizio ad Allah subhanahu wa ta'ala attraverso il contributo alla comunità e al miglioramento del mondo. E quindi non si basa su obiettivi puramente egoistici o materiali, ma su una visione spirituale di ciò che è giusto e benefico. E io martello su sta roba qui, perché? Perché io ho un po' di... e ogni tanto guardo dei reel che magari sono più orientati a un target giovane di 25 anni, di 24 anni, eccetera, eccetera, e noto che questo successo è molto individuale. Faccio palestra, studio per fare i soldi, ok? E per essere il più figo della mia catena, del mio albero genealogico. Questo è soprattutto negli ambienti maschili, no? Online. C'è molto sta narrazione che è molto individualistica. Per carità, sono tutte cose giuste, ma ci deve essere qualcos'altro. Cioè, non ne sono robe sbagliate, il fatto di allenarsi per avere un corpo forte e bello, il fatto di studiare, il fatto di concentrarsi sui propri obiettivi, il fatto di non farsi distrarre dalle cavolate, eccetera, eccetera. Però l'obiettivo non sono solo i soldi. L'obiettivo è un qualcosa di altruistico. Anzi, un certo tipo di narrativa da crescita personale è non te ne fai niente della gente, stai sui tuoi obiettivi. Per certi versi può aver senso, però in realtà ricordiamoci che la missione per le persone non possiamo essere dei misantropi se vogliamo che il nostro progetto di vita sia davvero fissabile, ok? Quindi il primo elemento deve esserci una missione altruistica, ok? Com'è che dice? C'è un hadith, non mi ricordo adesso, i migliori di voi sono i più utili alle persone. Questo è quello che dice il profeta. Due, deve essere allineato con i valori, i nostri valori islamici. Quindi avere un progetto di vita, chiamarlo fissabile e averlo disallineato con i propri valori non ha senso. Ogni scelta, ogni azione del tuo progetto di vita è strettamente collegata con i valori dell'islam come la giustizia, la misericordia, la verità, l'onestà, l'equità, il pudore e così via, ok? Quindi non ci deve essere una contraddizione tra il perseguimento del proprio scopo, che può essere nella carriera, nella famiglia, per il proprio benessere e la visione più grande del servire la comunità, la ummah e del essere adoratori di Allah, subhanahu wa ta'ala, ok? Quindi questo è un punto molto importante perché è molto... Cioè io conosco tantissimi musulmani di... Cioè figli di musulmani, musulmani, c'è gente che dice io sono musulmano, che dice lei, lei, l'Allah, ma ha una carriera basata su dei valori non islamici, ha una famiglia che è stata costruita su dei parametri che sono tutt'altro che islamici, sia come... e sono state gettate le fondamenta dal momento della conoscenza reciproca fino a come è stato organizzato il matrimonio, sia gli accordi prematrimoniali, cioè non è un progetto di vita fissabile in lei, progetto di vita, diciamo, fissabile in donna, ok? E così via, ok? Anche tutta una serie di scelte, di rinunce, di sacrifici non vengono fatti in maniera allineata con i valori islamici, quindi perché sia un progetto di vita fissabile, deve esserci allineamento. E essendo un progetto di vita e non il progetto di questa settimana o il progetto di questo mese o il progetto di questo anno deve avere degli obiettivi che sono d'impatto, altrimenti basta vivere secondo il sistema. Il sistema cosa vuole da noi? Vuole che facciamo la scuola, ci laureiamo, troviamo un impiego, facciamo il nostro ruolo dalle 9 alle 6, spendiamo i nostri soldi, prendiamo la pensione e andiamo a morire, ok? Uno se dice, ah no, il mio progetto di vita è trovare il posto fisso, potrebbe essere un mezzo tramite il quale realizzare qualcosa di importante, perché anche ci sono posti fissi, il magistrato è un posto fisso, se ti pensate. Però il tema è, ok, deve esserci dietro un qualcosa di impatto, cioè il mondo, mettiamola in questi termini un po' epici, un po' da invadati, ma che in fondo non sono sbagliati, devi lasciare il mondo meglio di come l'hai trovato, cioè il tuo passaggio deve avere lasciato un'impronta positiva in questo mondo, il tuo passaggio in questa terra, alla fine deve aver lasciato un'impronta positiva, e un'impronta positiva non basata sul fatto che ho semplicemente sorriso alle persone e salutavo la gente la mattina. Sono cose super importanti e fondamentali e non ha senso costruire un progetto di vita se non ci sono questa base di buona educazione. Però non è quello di cui stiamo parlando, non è quello di cui stiamo parlando. E poi parleremo del perché stiamo trattando il tema del progetto di vita, però adesso definiamolo, ok? Quindi questa cosa qui è importante. Il progetto di vita fissabile ha obiettivi ben definiti che vanno oltre il successo individuale, mira a lasciare un'eredità positiva e a portare beneficio agli altri e a rendere il mondo un posto migliore, contribuendo alla rinascita della UMA, ok? Quando diciamo rinascita della UMA, intendiamo rinascita di quella comunità che è portatrice dei valori dell'Islam. E attenzione che non è un obiettivo etnico o un obiettivo razzista o un obiettivo di predominio puramente politico. No, rinascita della UMA significa Allah subhanahu wa ta'ala ha mandato questo messaggio. Noi siamo coloro che dichiarano e che testimoniano che non c'è Dio all'infuori di Allah e che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam è il suo messaggero. In questo messaggio, se venisse applicato, vivremo in un mondo migliore, più giusto, più equo, più misericordioso, più attento al debole, ok? E così via, più progredito, eccetera, eccetera. Però dobbiamo dimostrarlo dimostrarlo perché fino ad adesso siamo tutto chiacchiere distinto. Cioè, siamo tutto chiacchiere perché non lo stiamo dimostrando. Abbiamo una storia che alhamdulillah ha dimostrato che questa cosa si può fare ma nella nostra epoca sicuramente non siamo un buon esempio. Non siamo dei buoni rappresentanti. Per cui questa rinascita della UMA non è un obiettivo razzista. È affinché كَيْتَكُنَ كَالِمَتَ اللَّهِ كَيْلُّلُّيَا No? Come dice il Coran. Affinché la parola di Allah sia la più elevata. La parola di Dio. Poi un'altra caratteristica che c'è un'altra cosa che definisce il nostro obiettivo di vita è il progetto di vita è un intento di lunga durata. Cioè un progetto di vita deve avere non si esaurisce in un successo momentaneo o materiale ma punta alla costruzione di qualcosa che perdura anche oltre alla nostra vita. Quindi è un impegno costante per essere una fonte di beneficio per gli altri. Com'è che si dice questo in secondo la tradizione islamica? Una sadaka geria. Ok? Cinque deve esserci un bilanciamento tra quelli che sono gli sforzi mondani e spirituali cioè tra quelli che sono gli sforzi mondani della dunia e spirituale. Quindi un progetto di vita non può trascurare la dimensione personale o familiare ok? Ma integra queste dimensioni con la dimensione spirituale in maniera tale che la spiritualità ci dà la forza per affrontare la dimensione personale e familiare e la dimensione familiare e personale viene portata avanti secondo quelli che sono i valori coltivati dalla nostra spiritualità. Quindi c'è un circolo virtuoso un equilibrio che continua ad alimentarsi tra lavoro famiglia relazioni sociali e spiritualità quindi non si può fare un progetto di vita dietro il quale corri così tanto da dimenticarti le preghiere da dimenticarti le adorazioni da rinunciare a degli insegnamenti e delle indicazioni di Allah subhanahu wa ta'ala del suo profeta sallallahu alayhi wa sallam ok? Ora facciamo qualche esempio di qualche esempio di progetti di vita fissabili ovviamente un progetto di vita per rispondere a questa definizione strutturata che abbiamo dato deve essere espresso in maniera lunga però almeno come missione uno potrebbe dire educazzo prima si parlava dell'insegnante progetto di vita potrebbe essere un insegnante un educatore che non solo trasmette conoscenze ma lo fa con intenzione di formare individui consapevoli e alimentare anche nel mondo senza doverlo per forza dire quelli che sono i valori universali dell'islam che possono contribuire positivamente alla società ok? Oppure un'altra un'altra missione potrebbe essere la giustizia sociale e si potrebbe fare anche tramite un lavoro come avvocato attivista per difendere i diritti dei deboli proteggere gli oppressi promuovere la giustizia secondo i principi della della sharia no? oppure un progetto di vita potrebbe essere un'attività che oltre a generare profitto rispetta i principi islamici in termini di equità etica del lavoro ridistribuzione della ricchezza contribuendo quindi al benessere della comunità quindi in sintesi un progetto di vita fisa billee e quella che è l'incarnazione pratica di ibeda come diceva prima adorazione in senso più ampio siamo con le fe di allah subhanahu wa ta'ala sulla terra dobbiamo vivere per edificare e migliorare questo mondo e quindi lo facciamo attraverso il nostro progetto di vita ognuno in base a quelle che sono le sue aspirazioni ok? ora affrontato questo tema c'è un altro c'è un altro intervento il mio progetto di vita è poter fare la psicologa con una formazione di psicologia islamica per avvicinare la umma alla salute mentale senza preconcetti e senza essere notati da Allah complimenti Fatima poi dopo trasformiamo sta cosa in un documento in un documento con i progetti specifici x libri quali sono le cose da studiare progetti da qui a 5 anni progetti da qui a 10 anni eccetera eccetera in maniera tale è che questa cosa qui non rimanga evanescente diventa una serie di progetti ok? in maniera tale che diventa una serie di progetti quindi Fatima stai con noi che incialla questa sessione sarà molto utile ora la seconda cosa è affrontiamola un po' più velocemente infatti infatti non leggerò i commenti di tutti però voi commentate perché comunque poi i commenti li riprendiamo li reimpacchettiamo ok perché è importante avere secondo voi un progetto di vita e vorrei che la vostra risposta si sviluppi su due filoni primo filone è sul filone personale perché a livello personale è importante avere un progetto di vita e il secondo filone è a livello di umma perché per la umma è importante che ognuno di noi abbia un progetto di vita ok e se posso dirvi la verità è che noi perché parliamo così c'è strong believer alla fine ha una serie di parole chiave prima parola chiave è rinascita della umma seconda parola chiave è progetto di vita fissa bilille ok cioè questi sono i pilastri della nostra daua e della nostra opera con questa organizzazione terzo pilastro è far dalla propria vita un capolavoro fissa bilille quarto pilastro è lasciare un impatto un'impronta fissa bilille sono molte cose si sovrappongono però queste sono le nostre parole chiave che vedete ripetute e ridondanti nei nostri seminari ok ora perché secondo voi considerando che il nostro prima parola chiave è rinascita della umma e quindi fare tutto ciò che serve per la rinascita della umma come si collega il progetto di vita alla rinascita della umma quindi perché è importante avere un progetto di vita sia a livello di umma sia a livello personale ditemi la vostra che arriva e dice possiamo essere una umma autonoma quindi non dipendere dalle società occidentali per aspetti di cui non abbiamo musulmani competenti ok si intuisce il collegamento però collegamelo bene questa risposta qui con il progetto di vita cioè questa roba qui come si collega il progetto di vita in che maniera convincendo i musulmani ad avere un progetto di vita noi facciamo questa roba qui Sabrina dice perché se tutti lo abbiamo di conseguenza siamo sereni con noi stessi e molto attivi così da renderla umma felice e prospere e orgogliosa ok ok stiamo cominciando a toccare Latifa dice essere forti dritta al punto Muslim dice è importante avere un progetto di vita perché nella nostra fitra c'è l'istinto di lasciare un impatto su questa terra giusto Allah perché ci ha creato quando ci ha creato ha detto vorrò un vicario sulla terra e l'obiettivo di questo vicario è edificare e migliorare il mondo quindi Allah ci ha messo dentro di noi questo istinto questa fitra di voler lasciare un'impronta positiva anche se se ci mettiamo a dire razionalmente perché ti senti che è una roba che vuoi dentro perché perché siamo stati creati per questo ok quindi Muslim dice giustamente nella nostra vita c'è l'istinto di lasciare un impatto su questa terra e se non assecondiamo questo istinto il nostro benessere spirituale ne risente negativamente quindi banalmente è esatta questa cosa qui e due a livello di Umm perché è come un corpo unico se una parte stessa si addolora il resto ne risente negativamente ma se la Umm sta bene stiamo bene anche noi di conseguenza ok sta venendo fuori molto bene la parte personale la parte di Umm sta venendo ma in maniera un po' troppo poetica e poco touchable come prima io sono una persona molto concreta permettetemi non sono laureato in ingegneria ma ho fatto tanti anni in ingegneria poi a un certo punto la mia carriera è decollata e quindi non ci stavo più dietro però la mia mentalità è molto alhamdulillah molto umanistica perché leggo tantissimo a livello umanistico però il modo di pensare da ingegnere è rimasto ok per cui per quello apprezzo tanto la sfumatura il modo di esprimere bello però poi all'atto pratico dobbiamo avere delle cose che posso prenderle e posso usarle avere dei bottoni delle leve per poterle controllare ok quindi datemi delle risposte va bene belle ma anche poi che posso che si possono toccare quindi come si collega sta roba del progetto di vita alla alla rinascita da uno Sara dice a livello personale per sentirmi soddisfatta svegliarmi contenta di impegnare la mia giornata nel mio progetto perfetto a livello di Ummah per essere una califa di Allah degno del compito che mi è stato assegnato che possa quindi avvicinarmi a Dio e di conseguenza se tutti abbiamo un progetto di vita di impatto la nostra Ummah rinascerà insha'Allah Sara a livello di Ummah è quella che l'ha espresso in maniera più come si può dire in maniera più concreta la parte della Ummah soprattutto cioè in realtà Sara è stata brava perché ha fatto la parte bella romantica all'inizio e la parte poi matematica dopo quindi brava Sara lo Ying e lo Yang Noheile dice a livello personale avere un progetto di vita vuol dire avere una missione quando si ha una missione si punta all'eccellenza si è guidati da una grande motivazione che aiuta nei momenti di difficoltà fantastico a livello di Ummah vuol dire contribuire al benessere alla crescita alla crescita rinascita alla comunità islamica tramite il proprio lavoro e questo significa contribuire quindi a creare una Ummah forte Seiran dice perché siamo califa di Allah e non possiamo improvvisare grande grande Seiran mi ha toccato il cuore sta roba qui perché io perché mi ha toccato il cuore perché io sono irritato profondamente ma non per gusto personale ma perché strategicamente non ha senso in un'epoca come questa con una Ummah nelle condizioni in cui è quella roba di vivere la giornata e mascherando sta roba qui con la religione ah ma Dio vede e provvede ok Dio ti ha detto fai tutti gli SBEB e fa parte degli SBEB la pianificazione ok e quindi Seiran mi ha picchiato ovviamente con la consapevolezza che poi Allah può avere dei piani diversi da quelli che abbiamo noi nello specifico ma perché perché sono migliori dei nostri ma questo non significa non avere un piano perché in realtà la gente quando pensa che c'è un piano pensa a quelle robe da film in cui ogni mossa è calcolata non è quello il piano quella è una roba hollywoodiana che nella vita reale del 99% delle persone a parte alcuni geni non c'è quella roba lì il vero piano è molto elastico ha una direzione ha delle fasi ha degli indicatori di performance quindi degli indicatori calcolabili ha delle tempistiche ma poi ha una cosa che si chiama pianifica fai azione controlla i risultati ottenuti sistema il piano ok è questa la pianificazione cioè tu devi avere il piano e poi devi avere questo ciclo di controllo in maniera tale che il tuo piano continui ad essere realistico la gente pensa a non pianifico perché ci sono gli imprevisti della vita e quindi passa dall'estremo del voler pianificare tutto nei minimi dettagli all'estremo del non pianificare niente uscendosene con degli slogan vivi alla giornata o vivi con leggerezza che poi li mascherano anche con cose religiose tipo pianificare non serve perché Allah in mano la nostra vita no 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 non funziona così Allah ti ha detto spenditi al massimo per gli esbab e poi affidati ad Allah subhanahu wa ta'ala ma se ti affidi a lui prima di esserti speso al massimo per gli esbab Allah subhanahu wa ta'ala ti darà dei risultati proporzionali a quello che meriti perché lui è giusto e non è giusto che dia a te come colui che si è dato da fare fino in fondo ok quindi attenzione a questo tipo di a questo tipo di di cortocircuiti a livello personale penso che sia un istinto innato ok eia dice perché facendo così facciamo lo stesso gioco dei segnalisti ma in modo halal cioè un'economia circolare ok creare una home indipendente per raggiungere quel 2% ti permette di orientarti nei momenti di incertezza dice Swat molto bene molto bene in realtà avete detto tutte robe stra interessanti le avrei veramente lette tutte ragazzi ognuno allora facciamo una cosa perché in realtà mi fa male il cuore a vedere tutto sto ben di dio sprecato ognuno di voi scriva il commento lo copia tutto quello che scrivete copiatelo e mettetevelo in un file poi rielaboratelo velocissimamente e postatelo sul gruppo facebook così facciamo un boom improvviso dentro la community noi qua siamo 90 valorosi guerrieri nel gruppo ce ne sono quasi 4.000 tra i 3.000 e 4.000 andiamo a creare questo effetto questa onda d'urto per cui la gente si sente bombardata e si parla tantissimo dei benefici dell'importanza eccetera eccetera del progetto di vita per cui facciamo sta cosa qui così le vostre quello che dite viene poi ha un impatto poi ok adesso salto a piedi pari poi li leggerò più tardi perché Sumeya mi ha detto che si salvano Ismail dice abbastanza musulmani con progetto di vita uguale abbastanza leader musulmani influenti in società uguale rinascita mi piace mi piace l'equazione quindi avere un progetto di vita è fondamentale abbiamo detto sia a livello personale sia a livello di umma per diverse ragioni che vanno dalla crescita individuale alla costruzione di una comunità forte e coesa no vediamo un po' nel dettaglio perché a livello personale dare significato alla propria vita cosa si intende cioè un progetto di vita fornisce scopo e direzione come molti di voi hanno detto aiutando la persona a comprendere perché fa ciò che fa e questo avere uno scopo chiaro aiuta a navigare come diceva Suad le difficoltà e le decisioni quotidiane con più certezza evitando quella sensazione di essere alla deriva o di sprecare il proprio tempo e le proprie risorse e come confermato anche dalla psicologia positiva avere un obiettivo e una direzione chiara contribuisce al benessere emotivo e psicologico contribuisce al benessere emotivo e psicologico andando ad aumentare quella che è la soddisfazione e il senso di realizzazione ok e questo è il primo beneficio e molti di voi hanno parlato di motivazione un progetto di vita ben definito ti fornisce una forza interiore che ti aiuta a superare le sfide e le difficoltà perché quando sai per cosa stai lottando poi ti sacrifichi qualcuno prima parlava di sacrificio rende i sacrifici le fatiche eccetera eccetera più accettabili e tollerabili ok quindi chi ha un progetto di vita ha una maggiore capacità di mantenere la motivazione anche nei momenti di crisi o addirittura di fallimento perché perché non è circoscritta la sua visione non è circoscritta all'obiettivo ma ha una visione più ampia più ampia di ciò che vuole realizzare ok oltre a questo qualcuno parlava anche di decisioni un progetto di vita permette di fare scelte più consapevoli e allineate agli obiettivi senza un progetto le decisioni quotidiane possono essere frammentarie guidate dalle circostanze immediate piuttosto che da un piano chiaro molti non hanno confusione non sono indecisi perché sono indecisi geneticamente sono indecisi perché non hanno un piano per cui in base alle circostanze e anche un po' all'umore possono prendere una direzione piuttosto che un'altra quindi avere un progetto aiuta anche a stabilire le priorità cosa è importante per me dove investire il mio tempo energie e risorse cosa fare cosa evitare e quindi avere un progetto di vita permette di evitare di sprecare risorse di nuovo e ovviamente tutta sta roba qui va a canalizzarsi in quella che è la realizzazione personale come diceva qualcuno di voi avere un progetto di vita è uno strumento potente di crescita personale perché? perché ti spinge ti spinge a migliorarti costantemente a sviluppare nuove competenze a diventare la migliore versione di te stesso perché devi sempre passare alla fase successiva e questo ti permette di vivere in modo più consapevole più intenzionale evitando quella che è la dispersione la procrastinazione e così via quindi già solo già solo i benefici o l'importanza a livello personale di avere un progetto di vita già queste motivazioni basterebbero ma in realtà c'è anche il livello di Ummah no? Il livello di Ummah ci sono diversi punti qualcuno prima parlava di forza collettiva no? La forza di una comunità e quindi della Ummah deriva dalla somma delle azioni e degli sforzi dei suoi membri ripeto la forza di una comunità e quindi della Ummah deriva dalla somma delle azioni e degli sforzi dei suoi membri se ogni musulmano vive una vita consapevole orientata verso un progetto più grande il risultato complessivo sarà una Ummah più forte e capace di affrontare le sfide globali e questo concetto è evidente nelle civiltà passate dove comunità coese con visioni chiare condivise hanno prodotto grandissimi risultati a partire dalla Ummah di Muhammad che nella sua epoca d'oro era composta da persone che avevano chiari progetti di vita servire Allah contribuire alla giustizia al sapere al progresso eccetera eccetera chi è venuto con noi in Turchia al viaggio alla scoperta dell'impero ottomano ha visto bene questa cosa qui ha visto molto bene abbiamo parlato per esempio dell'architetto Sinan che aveva come progetto di vita quello di creare luoghi che elevano l'anima creare luoghi che elevano l'anima e quindi ha creato delle moschee straordinarie ma in realtà ha creato anche bagni turchi ha creato anche caravan caravan serraglio e cose di questo tipo però erano tutti strutturati in una maniera da creare luoghi che elevano l'anima ok quindi questa cosa qui si vede nelle civiltà precedenti e nella umma di muhammed anche delle epoche precedenti un'altra cosa è che tanti progetti di vita poi che mirano a migliorare la società a livello di risultato poi ci sarà un impatto positivo tangibile a livello sociale ok e questa cosa cioè l'impegno nei settori come l'educazione la giustizia sociale l'imprenditoria la cura dei più vulnerabili porta non solo benefici ai singoli ma rafforza anche l'intera comunità e quindi la crescita e il progresso della umma si può dire che dipendono anche dalla capacità di contribuire al bene comune perché ogni individuo lavora su un progetto di vita utile che contribuisce al rafforzamento della comunità ok e infine cioè alla fine la rinascita della umma significa cos'è è il sogno di riportare la comunità islamica al suo antico splendore alla sua rilevanza globale che può avvenire solo se ogni individuo vive con l'intenzione di contribuire a questo obiettivo cioè non è che la umma è un qualcosa di astratto che esiste indipendente da noi no siamo noi la umma se ogni individuo vive con l'intenzione di contribuire a questo obiettivo allora la umma rinasce e un progetto di vita fissabile è uno degli strumenti più importanti per rendere questo possibile ogni volta che qualcuno si impegna per migliorare se stesso e contribuire attivamente alla società aiuta a risvegliare e rafforzare la umma ma in realtà ragazzi non è solo questo c'è anche un'equazione ragazzi c'è un'equazione che io vi volevo parlarne alla fine però ve ne parlo adesso è per essere sostenibili ok cioè se noi vogliamo davvero fare un salto di qualità come umma è necessario avere persone produttive e impattanti e non lo dico a caso ci sono degli studi condotti su gruppi e organizzazioni come quelli di Jim Collins nel suo gruppo nel suo libro good good to greet da buono a eccellente a magnifico e mostrano che le organizzazioni con una direzione chiara e membri altamente focalizzati sugli obiettivi producono risultati straordinari e lo stesso vale per le comunità quando ogni individuo ha un suo scopo il risultato complessivo è molto più potente ok e com'è che si può diventare più impattanti com'è che una persona può diventare davvero impattante per essere produttivi in modo sostenibile non basta fissare obiettivi a breve termine serve un progetto di vita che dia continuità e cumulabilità e direzione a ogni scelta e ogni sforzo si può benissimo vivere a obiettivi temporanei non è che morite di fame ma non è il modo migliore per amplificare al massimo il proprio impatto potenziale non è il modo migliore per per lasciare il massimo impatto possibile e noi in questo momento considerando i milioni e i miliardi di musulmani che in realtà vivono perdendo tempo quelli consapevoli devono spingere di brutto per alzare la media ok in realtà questo vale per tutte le comunità anche gli Stati Uniti che oggi sono la più grande potenza mondiale c'è una grande massa che sono dei consumisti indebitati senza nessun tipo di obiettivo e li vedete nei film cioè alla fine noi abbiamo questa finestra privilegiata su quella che è la società occidentale che è il cinema no? e a noi come studiosi della rilasciata l'UMA dobbiamo studiare i modi di fare questo popolo qui che sta guidando il mondo almeno per adesso e la cosa particolare è che anche lì abbiamo una moltitudine di pesimorti passatemi il termine senza togliere dignità a nessun essere umano però dall'altra parte abbiamo una grande leadership cioè i piani alti agli Stati Uniti sono un qualcosa di imparagonabile ai piani alti degli altri popolazioni per non parlare della UMA i loro avvocati d'elite sono imparagonabili con gli avvocati d'elite di altre comunità non so se qualcuno di voi ha visto Sweets ripeto Sweets è un telefilm è tutto narrato in maniera molto più avvincente di quello che è alla fine l'avvocato fa molte più scartoffie di quella roba lì però comunque quella roba lì esiste quella roba lì esiste i politici d'elite sono molto diversi basti vedere la Silicon Valley i loro ecosistemi imprenditoriali tecnologici sono molto più avanti anche a livello di come si può dire anche a livello di di beneficenza paradossale noi siamo la UMA di Muhammad la UMA della zakat la UMA della beneficenza non siamo cioè statisticamente non siamo la UMA che dona di più anche se dovremmo farlo se solo tutti pagassero la zakat se tutti quelli che devono pagare la zakat la pagassero saremo la UMA che paga più beneficenza di tutti e non lo siamo e l'Occidente europei e americani sono maggiori rispetto cioè donano molto di più rispetto ai musulmani ok questa è una cosa da cioè bisogna prenderne atto perché perché è vero che in ogni popolo ci sono le masse che non contano niente a livello di impatto però la differenza la fa il braccio di ferro tra le leadership e noi dobbiamo fare in modo e chi sono i leader i leader sono può entrare in mille mila in mille mila definizioni però i leader sono quelle persone che vogliono lasciare un'impronta che vogliono raggiungere degli obiettivi che vogliono realizzare delle cose quindi dato che noi dobbiamo contribuire a questa rinascita da un ma noi siamo quella parte che spinge e non che è un peso morto ok abbiamo scelto di essere dalla parte di coloro che spingono che trainano e non di coloro che sono da pesi morti dobbiamo fare in modo che spingendo utilizziamo il sistema e la strategia che ci rende più impattanti possibili e la strategia che ci rende più impattanti possibili è il progetto di vita perché faccio sta roba qui perché a volte mi escono fuori delle obiezioni pseudoesistenziali in cui dicono vabbè ma tu sei un po' fissato con sta roba qui alla fine si può benissimo vivere anche senza certo che si può vivere senza certo che si può vivere senza assolutamente sì ma io non sto parlando di quali sono le strategie per sopravvivere a sto mondo cioè strong believer non si occupa di strategie per sopravvivere a sto mondo e per sbarcare il lunario strong believer parla di rinascita da um e per la rinascita da um serve un 2% di persone che hanno che esprimono al massimo il loro potenziale e per fare questo dobbiamo mettere insieme tutto quello che serve per massimizzare questo potenziale e il progetto di vita è dimostrato che chi ha un progetto di vita ok è molto più impattante e produttivo rispetto a chi non ce l'ha e chi lavora a singoli obiettivi o vive la giornata eccetera eccetera quindi si può vivere senza sì certo che si può vivere senza ma come um se davvero vogliamo contribuire alla rinascita della um e vogliamo farlo in maniera efficace cerchiamo di essere il più produttivi possibile quindi di armarci di tutte le cose che aumentano il nostro impatto il progetto di vita è una di queste cose quindi sì sono io fissato sì si può vivere anche senza no non possiamo competere con le altre comunità se continuiamo a vivere la giornata o a obiettivi individuali egoistici magari qualcuno adesso dice ma si può vivere anche senza va bene esco in realtà è anche questo l'obiettivo della chiarificazione perché uno capisce ok a che livello stiamo giocando e dice ok sta roba qui fa per me sta realtà sto strong believer fa per me voglio sfruttare le opportunità che ci sono in strong believer per andare nella direzione giusta oppure ma sti qua mi sembrano un po' degli invasati sai cosa vado a guardarmi la partita oppure vado a farmi un'altra roba vado a guardare i reel di quelli che abbracciano gli alberi e il cui focus è esclusivamente il benessere ripeto il benessere è qualcosa di importante ma è uno strumento per la nostra sostenibilità se mettiamo il benessere al centro non andiamo da nessuna parte perché è stressante lavorare per progetti di vita ambiziosi e vi assicuro che sarebbe molto più benessere fare delle routine in cui io ho un collaboratore qui a cui l'altro giorno parlavamo e discutevamo e gli facevo vedere con la professionalità che ho sviluppato nella mia carriera in realtà io potrei lavorare un'ora e mezzo al giorno e glielo ho fatto che ho dimostrato un'ora e mezzo al giorno io riesco a lavorare a mantenere la mia famiglia a mandare i miei figli a scuola privata eccetera eccetera invece lui mi vede che dopo il faggia sono in ufficio dopo l'isce vengo a rispondere alle ultime email ok quindi ho un turno di lavoro abbastanza importante quindi vi ammetto che questa strada qui quella del progetto di vita quella dell'ambizione quella di lasciare un impatto non è la strada più rilassante è una strada in cui bisogna cercare di tenere più possibile alto il livello di benessere per la sostenibilità nel lungo tempo perché se mi brucio in dieci anni non ha senso è meglio che magari performo un po' di meno ma che riesco a farlo fino all'ultimo giorno della mia vita quindi per questo uno è giusto che faccia la dieta faccia la palestra abbia dei momenti in cui stacca completamente abbia dei momenti di contatto con la natura eccetera eccetera ma deve rigirare attorno a voglio lasciare un impatto voglio lasciarlo più a lungo possibile e quindi mi prendo cura di me non mi prendo cura di me perché mi abbraccio perché mi amo perché eccetera vanno bene ste cose ma vanno contestualizzate in una missione più grande ok ripeto non è per denigrare o sminuire altri approcci ma se si vogliono seguire questi approcci comunque dobbiamo avere un contesto voglio stare bene sì mi voglio amare sì ci sono momenti di rigenerazione sì ne ho bisogno si può con il grounding abbracciate gli alberi fate quello che volete ok ma il contesto deve essere chiaro ok siamo dei guerrieri siamo dei soldati del profeta in questa epoca in ogni epoca il profeta era dei soldati soldati non in senso bellico in senso com'è che si chiamava quel film il guerriero di pace no non in senso bellico ma in senso di persone al suo servizio al servizio della missione no ci sono stati i sahaba nella sua epoca i tabirin dopo di lui tabirin e tabirin ci sono stati i grandi sapienti i grandi personaggi della storia dell'islam e ci sono anche tanti che non sono conosciuti e noi siamo in quest'epoca noi abbiamo deciso ok tra le tante persone che non hanno preso a cuore questa questione qui noi vogliamo essere gli uomini e le donne del profeta in quest'epoca e andare a dirglielo il giorno del giudizio e questa roba qui ha un costo anche un sacrificio a livello di benessere in certi contesti ok anche questa disturbante consapevolezza vi ripeto non prendetela in maniera estrema non dovete bruciarvi in dieci anni ok però vi suona vi torna vi stride quali sono le caratteristiche di un progetto di vita che funziona ok quindi adesso abbiamo parlato del cos'è ed era molto importante abbiamo riflettuto attorno perché è importante quindi degli effetti abbiamo preso consapevolezza di perché siamo fissati con sto argomento perché molto spesso sembra una fissazione da crescita personale invece non è così ok ora che abbiamo capito cos'è e perché è importante quali sono le caratteristiche cominciamo ad entrare un po' più nel concreto quali sono le caratteristiche di un progetto di vita fissabile che funziona provate a scrivere i vostri contributi nella chat beh sicuramente guarda che mi hai scritto in privato sicuramente diciamo che le caratteristiche di un progetto di vita fissabile che funziona sono quelle che permettono alla persona di vivere una vita pienamente dedicata alla causa di Allah garantendo allo stesso tempo un impatto positivo sulla comunità e su se stessi e fin qua ci siamo e quindi deve avere le caratteristiche quali sono qualcuno dice allineamento con la fede e con i valori islamici ok quindi questo è assolutamente importante allineamento con la fede e i valori islamici quindi cosa significa questo significa innanzitutto una niya un'intenzione sincera ogni progetto di vita fissabile inizia con cosa con la volontà di avere status con la volontà di avere solo soldi no con un'intenzione sincera di compiacere Allah subhanahu wa ta'ala quindi l'obiettivo non è il guadagno personale ma servire la causa di Allah contribuendo al benessere della comunità e al miglioramento della società e sempre a livello di allineamento con la fede e i valori islamici direi che è la conformità alla sharia ogni aspetto di questo progetto di vita sia nelle piccole decisioni che nelle grandi strategie deve essere conforme ai principi dell'islam e questo include l'etica del lavoro rapporti umani le finanze l'impatto ambientale la famiglia l'abbigliamento quindi anche il personal brand molti lavorano sul proprio personal brand ok molti lavorano in maniera haram molti lavorano al proprio personal brand purtroppo in maniera haram coltivano la loro immagine anche sui social in maniera haram e non parlo solo delle donne che magari c'è una questione un po' più delicata delle donne io non sono per niqab la donna non può apparire eccetera eccetera mia moglie è Parmida Bardiaz se la conoscete è abbastanza influente sui social ok però ci sono altre persone soprattutto in certi settori che cadono nel haram perché non si sono ben informate su quelli che sono i limiti dell'apparire o del non apparire di cosa far apparire e parlo anche dei maschi e non parlo solo della parte fisica che è fondamentale ma non è l'unica ma anche di cosa si parla di cosa si racconta di quali parti della propria vita si racconta quindi su sta cosa qui consiglio di informarsi e capire di cosa si sta parlando quindi ogni aspetto della nostra vita deve essere conforme alla sharia ok a quelli che sono le indicazioni di Allah poi cosa dice Nuhail allora dice Nuhail dice con una visione e obiettivi chiari strutturato allineamento con l'islam che rispetti le proprie aspirazioni plessibile adattabile Nuhaila 10 su 10 Karima dice è fatto con Yasser molto bene Selma dice essere in grado di accettare non solo i momenti di facilità ma anche i momenti di difficoltà ma soprattutto cercare di trasformare ognuna di queste in opportunità che possono elevarci in questa dunia e nella Akhera giusto focus sul progetto eliminare tutti gli entralci ok questa roba qui sono benefici quali sono le caratteristiche ok giustamente Osema dice Nia un piano B dipende dipende cosa si intende per piano B però bene Muslim dice ha un piano di breve medio e lungo termine fantastico non dipende da mezzi del momento se domani Instagram sparisce non muore il progetto bravissimo è dotato di meccanismi che lo rendono efficace anche dopo la nostra morte una sadhapageria bravissimo bravissimo Muslim adesso parliamo delle caratteristiche del progetto di vita Hamza dice solido e misurabile solido è giusto ma non c'è bisogno da definire misurabile sicuramente ok misurabile nel senso che devo capire quando l'ho raggiunto quando non l'ho raggiunto o in che percentuale l'ho raggiunto ma Minata dice deve essere davvero utile per l'elevazione della UMA e questo è importante perché molto spesso noi verniciamo delle cose con rinascita della UMA ma non c'è utilità poi e molto spesso il progetto è buono ma non siamo disposti a pagare il prezzo per raggiungerlo non siamo disposti a studiare abbastanza per raggiungerlo perché magari il nostro progetto richiede il fatto di avere un certo tipo di certificazione un certo tipo di diploma un certo tipo di laurea alla faccia di chi dice che ABB dice di non laurearsi assolutamente no assolutamente no la laurea è importantissima per alcuni progetti di vita la laurea è importantissima per riuscire ad eccellere ma non solo laurea il magistrale il dottorato e così via dipende ovviamente dal progetto di vita io quello che vi dico non è non laureatevi ma non dipendete in maniera emotiva dal pezzo di carta ma se per amplificare il vostro impatto quel pezzo di carta vi aiuta prendetelo ok sarà dice intenzione durabilità efficacia e cram dice deve essere sostenibile nel tempo per poter essere portato avanti senza compromettere altre aree della vita come la salute le relazioni le risorse economiche sarà dice perseveranza e impegno ok quindi tutte cose giustissime aggiungo qualcosa che mi ero già preparato abbiamo detto allenamento con la fede e i valori islamici secondo punto chiarezza della missione degli obiettivi chiarezza della missione e degli obiettivi quindi da una parte una missione ben definita ok un progetto di vita che si abili là funziona quando ha una missione chiara uno scopo preciso che orienta le azioni e le decisioni ok per esempio promuovere l'educazione islamica fornire assistenza ai bisognosi sono missioni chiare che guidano le scelte quotidiane e poi obiettivi misurabili avere obiettivi concreti tangibili misurabili è essenziale questa cosa qui questi obiettivi possono riguardare il numero di persone che beneficiano 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 no il numero di persone che beneficiano del progetto il tempo che dedichi i cambiamenti specifici che vuoi vedere nella società quindi o il numero di libri il numero di organizzazioni create ok non il numero ma creo questa organizzazione creo questa organizzazione e creo questa organizzazione quindi quali organizzazioni voglio creare o in che tipo di organizzazioni voglio lavorare che libri voglio scrivere voi tutti dovete scrivere un libro chi ha un progetto di vita ha un libro anche che accompagna questo progetto di vita almeno un libro almeno un libro stiamo parlando di lasciare un impatto e c'è sempre un lato culturale un lato di pensiero un lato di filosofia ok da accompagnare a questo progetto di vita e poi viene accompagnato da una serie di iniziative e così via ma che voi facciate gli architetti gli avvocati personal trainer e abbiate un'azienda di costruzioni eccetera eccetera deve esserci un libro ok tra l'altro nei corsi avanzati che includono gli strumenti per l'influenza perché noi abbiamo nell'academy abbiamo i corsi di chiarezza quindi chiarire il proprio progetto di vita la propria direzione la propria professione e così via poi abbiamo i percorsi di potenziamento personale ok quindi produttività disciplina costanza contro la procrastinazione eccetera eccetera poi abbiamo la parte delle relazioni quindi come farsi rispettare come far conquistare i cuori delle persone perché chi vuole lasciare un impatto deve creare squadra deve farsi seguire leadership eccetera eccetera la parte delle emozioni ok la parte delle come si chiama dell'autostima perché comunque andare avanti senza autostima significa andare avanti col freno a mano tirato quindi abbiamo sto facendo un recap per spiegare la parte che vi ho appena detto degli strumenti per l'influenza quindi abbiamo questi di potenziamento personale poi abbiamo tutta quella roba lì che amplifica l'impatto quindi imprenditoria una persona che sa creare un progetto imprenditoriale attorno alla propria idea è molto più impattante di chi non lo sa fare una persona che abbiamo per esempio la parte di vendita di marketing di public speaking la parte di video la parte di e è in arrivo alcuni sono stati già realizzati altri sono in arrivo è in arrivo anche la parte di scrittura ok perché il nostro obiettivo è sfornare molti scrittori per la UMA scrittori non nel senso che scrivono i romanzi tipo Harry Potter ci sarà anche quello e benvenga ma scrittori nel senso di libri che impattano sul vostro settore ok ok quindi obiettivi misurabili quanti libri quali organizzazioni eccetera eccetera l'altra caratteristica che deve avere un progetto di vita è dedicargli la vita banalmente no bisogna dedicargli la vita bisogna avere una coerenza tra queste tra le nostre azioni quotidiane e questa nostra missione generale del progetto e quindi ogni fase della mia vita io sto costruendo qualcosa del mio progetto di vita e può anche essere intanto lavoro sto lavoretto così metto da parte i soldi così finanzio il mio percorso di laurea o la mia formazione o finanzio il mio viaggio all'estero può anche essere quello o può anche essere intanto mi tengo questo lavoro temporaneo mentre finanzio la mia crescita e poi passo ad altro e poi lavoro full time al mio progetto di vita quindi in ogni fase ci deve essere un impegno in quella direzione non si fa altro se non dedicarsi al proprio progetto di vita ok e quando dico non si fa altro non intendo che non ci si riposa il riposo fa parte del progetto di vita ok cioè io per arrivare dove devo arrivare devo lavorare e devo riposarmi come mi riposo quali sono i miei hobby quali sono le mie attività rigeneratrici quali attività quali hobby voglio esplorare fa parte del progetto di vita ho una vita la progetto la programmo in maniera tale da amplificare al massimo l'impatto e devo programmarmi anche il divertimento perché altrimenti rischio che ogni volta che ho un momento libero vado a scrollare i social e vado a guardare le serie su Netflix che ben vengano anche io guardo le serie su Netflix ma deve essere proprio ok so che in questo momento faccio questo l'ideale sarebbe avere dei momenti e poi avere un pool di attività qualcuno piace far passeggiato qualcuno piace andare a cavallo qualcuno piace giocare a calcio a qualcuno piace nuotare a qualcuno piace fare trekking a qualcuno piace andare al ristorante io eccetera eccetera ok quindi fa parte del progetto di vita quando vi dico non c'è nessun momento della vostra giornata che non state dedicando al progetto di vita intendo che anche il riposo fa parte del vostro progetto di vita ok quindi un progetto di vita deve essere un progetto di vita non un progetto a fine giornata che porta avanti per tutta la vita ok e e quindi ovviamente un'altra caratteristica che sia di beneficio per la comunità come avete detto molti di voi quindi il progetto deve avere un impatto reale positivo sulla comunità islamica e sulla società in generale e questo abbiamo già detto e un progetto di vita però che funziona non è isolato si basa anche sulla collaborazione con altre persone con gruppi che condividono la stessa visione creando una rete di supporto che moltiplica l'impatto quindi cerchiamo anche sia di stare in rete tra di noi ma anche creare organizzazioni o far parte di organizzazioni non dobbiamo tutti creare organizzazioni assolutamente no io dico sempre se fosse esistita strong believer prima di me io mi sarei andato a candidare per lavorare con strong believer perché devo andare a farmi tutto il macello burocratico eccetera eccetera per creare strong believer lascio quel macello a chi l'ha fondata e io vado a lavorare sul lavoro che mi piace di più ovviamente dando una mano anche nei rospi da ingoiare però non voglio neanche che diventi capite la differenza tra la crescita personale là fuori e il nostro approccio il nostro approccio è funzionale noi vogliamo contribuire alla rinascita della home vogliamo lasciare un grande impatto non è che tutti devono diventare imprenditori perché se non sei un imprenditore sei uno schiavo non è vero ci sono un sacco di dipendenti che fanno dei lavori straordinari e io vorrei in certi momenti fare il dipendente in un'organizzazione che che effettivamente lavora coerentemente col mio progetto di vita perché se c'è un progetto di vita già esistente se c'è un progetto già esistente coerente col mio progetto di vita perché devo andare a creare una micro realtà che va a dividersi dalla realtà già esistente invece che andare ad alimentare quella già esistente quindi mi raccomando quella retorica da mettiti in proprio a tutti i costi tutti dobbiamo diventare degli imprenditori è una retorica che nella nostra prospettiva nella prospettiva di lasciare un impatto non è detto che sia sempre la soluzione poi io vi consiglio per il vostro nel vostro progetto di vita per i vostri progetti finanziari ci sta investire in delle cose ok ci sta investire in delle cose diversificare le proprie entrate eccetera eccetera però con una certa razio non seguendo gli slogan di instagram ok io so che molti di voi qualcuno sta scrivendo so che molti di voi sono anche un po' stupiti da quello che dico perché magari è la prima volta che siete qui e ci avevate inquadrato come strong believer in una determinata area tipo sono quelli che parlano di crescita personale musulmana non è esattamente questa cosa qui noi abbiamo una filosofia ben specifica coerente in cui non abbiamo solo degli slogan ok ma abbiamo dei ragionamenti che in base alla situazione possono meno applicarsi quindi tutti devono diventare imprenditori non è una non è una nostra battaglia ok è una battaglia di chi vende esclusivamente corsi di imprenditoria noi non lo facciamo noi abbiamo il percorso scuola di business per musulmani ma facciamo un orientamento precedente di solite persone prima fanno il percorso di chiarezza mentale capiscono cosa vogliono fare e se fa parte del loro percorso la parte imprenditoriale ben venga altrimenti non ha senso perché se uno cioè se esiste già la croce rossa no o esiste già medici senza frontiere o esiste già islamic relief o esiste già strong believer o esiste già quello che esiste già perché devo andare a creare una nuova organizzazione che fa la stessa cosa ok equilibrio tra le varie dimensioni qualcuno diceva una delle caratteristiche deve esserci equilibrio cioè non deve essere una roba che va a discapito di qualcos'altro io la vedo in questa maniera vedo il progetto di vita è il centro poi progetto familiare che lo sostiene quindi io scelgo mia moglie mia moglie per le donne per i mariti aspetta noi siamo molto alla vecchia maniera su questa roba qui gli uomini hanno le mogli e le donne hanno i mariti ok cerchiamo di di stare molto lineari su sto fronte qui no a parte gli scherzi deve esserci un progetto familiare che lo scegliamo e lo costruiamo in maniera coerente col mio progetto di vita o se mi sono accorto che voglio un progetto di vita e sono già sposato o sposata cerco di coinvolgere la mia famiglia attorno al progetto di vita in maniera tale che mi sia di supporto e non mi sia di freno ok poi costruisco la mia attività fisica attorno al progetto di vita i miei hobby attorno al progetto di vita e così via le mie relazioni le mie amicizie cioè non posso avere delle amicizie che mi depotenziano nei confronti del mio progetto di vita le mie amicizie rispecchiano dove voglio andare mi aiutano in una certa misura sulla direzione in cui voglio andare quindi bisogna avere una selezione poi ci sono delle relazioni ovviamente che perché noi dobbiamo portare avanti un progetto di vita per uno scopo maggiore che è una società migliore eccetera eccetera e per una società migliore non è che possiamo dire ah io non parlo più con la mia famiglia o con i miei familiari perché non c'entra con il mio progetto di vita perché sennò è un cortocircuito noi lavoriamo per una società creiamo un progetto di vita per una società migliore e facciamo tutto quello che è coerente con la società migliore quindi se abbiamo dei familiari anche se non sono non hanno il mindset no? Siddharahim rimane con la giusta misura con le giuste distanze con i giusti limiti ma deve rimanere ok? e così via quindi non è che uno dice prendo vado perdo i contatti con i miei genitori perché il mio progetto di vita mi porta in un'altra direzione no non è neanche questa cosa qui ricordate sempre che il progetto di vita è uno strumento per amplificare l'impatto l'impatto a cosa serve? per dare un contributo edificare e migliorare il mondo il nijaino è ciò per cui siamo stati creati se vado a fare poi delle azioni che sono contrarie a ciò verso cui sto spingendo non ha molto senso ok? quindi equilibrio tra le dimensioni terrene e spirituali e questo necessita ovviamente di autodisciplina e soprattutto di gestione del tempo ok? molte persone qualcuno l'altro giorno diceva io sono produttivo ok? come va con lo studio della religione? ah ma non ho mai tempo per studiare la religione sei produttivo? cioè io conosco persone che hanno tre aziende quattro figli studiano anche all'università hanno cioè e studiano comunque la religione perché tu che hai il lavoro e stai in famiglia non ce la fai? allora essere produttivi non significa semplicemente non perdere tempo davanti ai social significa anche saper incastrare organizzare le varie dimensioni della nostra vita dentro il nostro programma giornaliero e settimanale e mensile ok? e questa è una competenza che mentre nelle epoche passate poteva essere intuitivo nella complicata epoca in cui viviamo è una competenza che va affinata un'altra caratteristica importante ed è direi la penultima la visione a lungo termine come diceva qualcuno quindi un progetto di vita di successo ha una visione chiara di ciò che vuole ottenere nel lungo termine e ha una eredità una sadakageria una legacy no? un'eredità spirituale e punta a lasciare un'eredità che vada oltre la vita terrena ok? e infine Tawakul ok? un progetto di vita visabile è legato alla fiducia che si ripone in Allah dopo aver pianificato e lavorato diligentemente e sodo chi porta avanti il progetto di vita deve riporre la propria vita la propria fiducia in Allah subhanahu wa s'a'ala per il risultato finale sapendo che ogni sforzo è nelle sue mani e sapendo che la ricompensa è garantita perché in amelo non bel risultati le azioni non valgono in base ai risultati ma valgono in base alle intenzioni ok? quindi questa cosa qui è importante ora se dovessimo andiamo alla parte finale che è quella pratica se dovessimo mettere su un documento un progetto di vita come sarebbe strutturato? adesso questa cosa qui io ve la leggo però poi il mio consiglio è fare questo è lavorarci con il vostro tutor vi prescrivete al vostro tutor gli rompete le scatole li pago apposta ok? scrivete al vostro tutor e gli dite guarda dammi innanzitutto perché loro hanno il pdf e ve lo fate mandare da loro ok? gli scrivete e gli dite ok voglio parlare voglio lavorare sul mio documento ok? c'è un problema c'è una premessa questo documento ha dei prerequisiti che adesso vedremo ok? che non è detto che il tutor sappia affidarvi ma può indirizzarvi però scriveteli per lavorarci insieme il documento il documento come fa? adesso ve lo recito e poi dopo e poi dopo inshallah i tutor ve lo mandano per chi guarderà no ve lo dico dopo dico dopo sennò poi qua si crea una poi alla fine lasciamo le domande per cui rimanete però per chi guarderà la registrazione scrivete comunque anche voi il vostro tutor ok? ora come dovrebbe essere questo documento primo punto è missione e visione qual è la differenza tra missione e visione ne parlo bene nel corso carezza mentale per il successo professionale però la missione è qual è lo scopo qual è la direzione che guiderà le mie scelte e molto spesso è vaga questa cosa qui essere un educatore un mentore per i giovani musulmani ispirandoli a essere leader etici e responsabili per esempio oppure lottare per i diritti dei musulmani in Europa ma può anche essere oppure come diceva come era la missione di Sinan creare spazi che elevano l'anima costruire spazi che elevano l'anima ok? quindi una missione è una sorta di slogan che spiega bene cosa facciamo cosa vogliamo fare nel mio caso per esempio è contribuire alla rinascita della UMA formando e contribuendo a formare una generazione di musulmani capaci di fare la differenza fissabile questa è un tipo di missione ok? la missione è questa la visione cos'è? la visione è una sorta di fotografia di quale contributo vuoi offrire al mondo e alla UMA come vuoi servire Allah nella tua vita ok? e questa visione a lungo termine è una sorta di descrizione riassunta che poi viene esplosa in degli obiettivi specifici misurabili con una scadenza cioè con una deadline ok? quindi per esempio voglio formare entro 20 anni adesso ve la dico per quello che per quello che riguarda noi vogliamo formare entro 20 anni 100.000 credenti ok? formare significa impatto più profondo ok? significa che entra in un percorso di formazione trasformativo e vogliamo toccare la vita di 100 milioni di credenti ok? ovviamente non basta in Italia l'Italia non è sufficiente per fare un progetto del genere bisogna andare fuori cosa che differenza c'è tra il toccare e l'entrare nella vita di una persona con la formazione con i percorsi formativi abbiamo la possibilità di andare a fare un lavoro trasformativo nella vita della persona ok? quando fanno il percorso chiarezza mentale per successo professionale è un percorso di 60 oltre 60 ore è ovvio che il livello di trasformazione è molto maggiore rispetto a una diretta come questa che è importante però questa rientra nella categoria toccare ok? toccheremo voi che siete presenti toccheremo quelli che guarderanno la registrazione ok? e così via quindi quello è il toccare quindi un contenuto un seminario eccetera eccetera il formare significa entrare nella loro vita e andare a fare delle trasformazioni positive nella loro vita aiutarli a identificare il progetto di vita costruirci attorno tutto quello che serve andare a costruire le competenze necessarie per portare a termine questo progetto di vita e così via questo è un po' il nostro mestiere dalla parte dell'academy ok? quindi la visione è un riassunto di quello che vogliamo realizzare per esempio nel nostro caso è misurabile in questa maniera e poi va a dettagliarsi in delle aree di sviluppo ok? e le aree di sviluppo sono ok obiettivi a breve termine obiettivi a medio termine obiettivi a lungo termine ok? per esempio lanciare un programma di mentorship per giovani entro sei mesi questo è un obiettivo a breve termine sto facendo gli esempi su di me ma non per raccontarvi la mia vita semplicemente perché sono gli esempi che mi vengono più facili poi ognuno nella sua vita può adattarli obiettivo a medio termine è da qui a cinque anni essere presenti in in almeno tre paesi ok? e obiettivi a lungo termine magari c'è quella cosa lì sto facendo dei piccoli esempi qualcosa di essere in tutto il mondo anglofono in tutto il mondo arabo in tutto il mondo francofono e spagnolo ok? quindi questo potrebbe essere un un modo di esprimere l'obiettivo a lungo termine ma non solo creare la strong believer school creare la strong believer media creare la strong believer edizioni eccetera eccetera queste sono tutte organizzazioni ok? io adesso ho anche già i nomi perché ci stiamo già lavorando o coltivando i progetti però uno potrebbe dire voglio avere una scuola islamica che va dall'asilo fino alla quinta superiore ok? poi voglio avere un'associazione che fa questa cosa qui poi voglio formare una commissione di sapienti che risponderà e poi la visione va a declinarsi in tutti questi obiettivi a breve a medio è a lungo termine ok? voglio scrivere cinque libri voglio creare queste x organizzazioni oppure voglio lavorare in queste organizzazioni a questi progetti qui perché anche nelle organizzazioni si lavora a progetti e così via quindi abbiamo detto nella prima parte c'è la missione e la visione nella seconda parte c'è c'è la missione poi nella seconda parte c'è la visione una cosa che ho già detto prima ma voglio ricordare sul tema della missione è l'intenzione dichiarare che ogni sforzo è intrampreso fissabile per compiacere Allah e portare beneficio alla società sta cosa qui fatela subito è vero che poi questa questa diciamo questa intenzione va rinnovata ok? questa intenzione va rinnovata ma il tema è che almeno all'inizio dobbiamo farla poi facciamo un refresh ma all'inizio dobbiamo farla così ogni nostra azione anche quelle un po' più sbavate comunque cadono sotto questa intenzione questo ragazzi è un accorgimento non da poco perché è quello che fa la differenza quindi prima di fare la vostra prima azione intenzione per Allah ok? questo per quanto riguarda la missione poi seconda fase visione con tutti gli obiettivi a breve medio e lungo termine e poi le varie aree di sviluppo nelle varie dimensioni quindi organizza il tuo progetto in delle aree chiave della vita come spiritualità famiglia lavoro salute crescita personale per esempio obiettivi per rafforzare la connessione con Allah lettura del Corano quotidiana alcune nawefil alcuni alcuni giorni di digiuno per quanto riguarda le relazioni per esempio incontri in famiglia con questa cadenza qui incontri con la comunità devo partecipare a un evento comunitario ogni due mesi per esempio e così via devo partecipare a un convegno del mio settore di azione ogni anno almeno un convegno all'anno o ogni due anni e così via lavoro e servizio quindi quali sono le competenze professionali o progetti di servizio alla comunità no e come voglio svilupparli dal punto di vista finanziario ok gli obiettivi finanziari quindi come quali sono i miei obiettivi finanziari e come poi posso raggiungerli ok e poi il benessere fisico quindi cura del corpo della salute attraverso una routine di esercizio fisico di alimentazione di sonno e così via e quindi da lì dall'area di sviluppo identificata poi si va al piano d'azione quindi i passi pratici quali azioni concrete da intraprendere per raggiungere gli obiettivi ogni azione deve essere specifica e deve avere una scadenza temporale esempio completare un corso online di gestione del tempo entro tre mesi questo a breve termine finire il percorso di laurea o finire il dottorato o creare la mia prima azienda da qui a quattro anni o riuscire ad entrare in una determinata azienda o in un determinato settore da qui a un anno e mezzo ok e quindi poi vai a elencare le risorse necessarie le competenze che devi acquisire per raggiungere i tuoi obiettivi ok e infine la parte di programmare la parte di revisione quindi bisogna pianificare una revisione semestrale o annuale per verificare il progresso e apportare eventuali modifiche al progetto ok ora tutta questa roba qui è un documento che io vi ho spiegato in maniera super riassunta ma come avete notato è come avete notato ha dei prerequisiti banalmente un prerequisito cioè questo documento cosa fa? permette di mettere in ordine quello che sappiamo e lo mette giù in una maniera che ci permette di essere più efficaci e più focalizzati ma a monte c'è so già in che settore devo operare a monte c'è so in quale so qual è il mestiere che voglio andare a fare ok e così via a monte c'è ecco i progetti quali sono i progetti che vanno a soddisfare la mia missione ora questa cosa qui richiede un momento di riflessione che vi invito a fare per conto vostro e fatevi anche aiutare dal tutto noi dal nostro canto abbiamo un percorso come dicevo molto profondo molto trasformativo quindi un qualcosa che entra in maniera pesante nella vostra nella vostra esistenza pesante in senso positivo che è chiarezza mentale per il successo professionale e noi l'abbiamo fatto in questa maniera abbiamo creato sulla parte professionale perché è la parte un po' su cui si spende più tempo e e poi abbiamo fatto i vari corsi anche per la parte per esempio della famiglia ok con restart parenting eccetera eccetera quindi in realtà ognuno di voi deve andare a dire ok su cosa ho chiarezza e su cosa non ho chiarezza ho chiarezza sulla parte professionale so dove andare eccetera eccetera perfetto quello su cui non ho chiarezza magari è come costruire la mia famiglia come educare i miei figli in maniera coerente col mio progetto di vita oppure il contrario no oppure uno può dire ok in realtà ho chiaro a grandi linee il settore in cui voglio operare ma voglio acquisire gli strumenti necessari per voglio essere consapevole di quali sono le competenze che devo acquisire o quali sono le strategie che devo mettere in atto per entrare nel mio settore banalmente fatto di imparare a crearsi dei contatti che ti permettano di entrare nel mio settore e così via quindi questo è un progetto è un documento ma poi bisogna andare a dire ok cosa so fare cosa ho già cosa mi manca cosa addirittura non ho non ho ancora risposte quali parti del documento non ho ancora risposte ok e questo lavoro potete farlo individualmente vi invito a prendervi dei momenti per riflettere ok magari in un bel posto magari in natura eccetera eccetera potete anche condividere alcune delle vostre riflessioni col tutor che attenzione non vi fa consulenza il tutor il tutor vi affianca vi aiuta a sbloccarvi ok però non vi fa non vi fa consulenza un altro è un altro discorso e magari potreste scoprire che potrebbe essere interessante anche iscrivervi alla all'academy ok quindi io vi condividerò tramite i tutor questo questo documento lavorateci perché vale la pena anche se non avete tutte le risposte lavorateci ok chi vedrà la registrazione e non ha un tutor scriva a info chiocciola strongbelieveracademy.com gli altri alzino semplicemente la mano in questa diretta ok e ripeto il documento compilatelo lo stesso se ci sono delle cose che non sapete benvenga benvenga perché perché avete un momento di consapevolezza cioè metà della soluzione è capire qual è il vero problema ok molto spesso noi abbiamo delle cose che non abbiamo capito perché non stanno funzionando ma non sappiamo dov'è il problema ok metà della soluzione è Maryam Abu Abu Ali ha alzato la mano su me quindi metà della soluzione è aver chiaro il problema ok quindi questa è una cosa importante quindi lavorateci individualmente non fatevi prendere dal perfezionismo anche se non avete tutte le risposte prendetevi del tempo e poi il resto delle risposte magari parlatene con il tutor per andare a capire come svilupparlo ok ora perdonatemi se nell'ultimo pezzo della della sessione ho un po' parlato ho parlato ho parlato troppo io e non c'è stato molto 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 come si chiama non c'è stato molto confronto c'è stato molto nella prima parte e molto poco nella seconda parte ma perché il tempo veramente corre vorrei darvi delle riflessioni per andare a chiudere bene questo intervento questa questa sessione qui Bismillah al-Rahman al-Rahim allora questa serata è stata un'occasione importante per riflettere su questo tema che tocca la vita di ciascuno di noi che dovrebbe toccare la vita di ciascuno di noi che è il progetto di vita e la riflessione è questa se vogliamo davvero fare un salto di qualità come un ma è necessario avere persone produttive e impattanti quando dico produttive e impattanti intendo non produttive nel senso che corrono tutto il giorno in realtà si può essere molto più produttivi non correndo ma produttive nel senso che producono valore ne avevamo parlato in Turchia con i ragazzi che sono venuti in gita abbiamo fatto dieci giorni alla scoperta dell'impero ottomano e parlavamo di quanto sono poco produttivi i musulmani quanto poco producono sia a livello culturale intellettuale e questo non vuole essere una visione catastrofica perché come abbiamo detto nel seminario sulla rinascita della Ummah a cui vi rimando tutti in realtà la nostra Ummah è in crescita è in miglioramento però è oggettivo che siamo ancora molto indietro quindi è necessario avere persone produttive impattanti per la rinascita della Ummah e studi condotti come dicevo su gruppi e organizzazioni come quelli di Jim Collins nel suo libro Good to Grit o Grit adesso non ho una pronuncia che fa schifo mostrano che le organizzazioni con una direzione chiara e membri altamente focalizzati sugli obiettivi producono poi dei risultati straordinari e lo stesso vale per le comunità perché quando ogni individuo ha uno scopo il risultato complessivo è potente come dicevamo prima ma come può una persona davvero diventare impattante per essere produttiva in modo sostenibile non basta fissare obiettivi a breve termine questa è un po' la consapevolezza che ci siamo portati a casa oggi serve appunto il progetto di vita che dia continuità cumulatività e direzione a ogni scelta e ogni sforzo abbiamo visto i benefici personali diversi studi psicologici come quello di carol carol riff sul benessere dimostrano che le persone con uno scopo di vita chiaro sono più resilienti capaci di produrre valore per sé e per gli altri e questo non solo le rende più felici e soddisfatte questo lo diciamo anche nella strong believer way ma le aiuta a canalizzare le loro energie in modo efficace evitando queste dispersioni ecco uno dei problemi della nostra comunità e purtroppo è davvero così lo vediamo anche in molti dei nostri rappresentanti no? come musulmani che vanno in televisione le superstar della nostra comunità io sono molto a contatto con loro molti di loro il loro impatto è limitato perché non hanno progetti di vita saltellano da una roba all'altra eh adesso cosa faccio? adesso faccio sto dottorato adesso faccio il direttore di sta roba qui e passano da lavori di rappresentanza a direzione della moschea a lavoro accademico a lavoro a cercarsi un lavoro poi che non c'entra niente con la loro missione di vita eccetera eccetera ovviamente sono molto meglio di chi è un peso morto per la comunità però io conoscendoli conoscendo i doni che Allah ha dato loro conoscendo il loro potenziale gli dico guarda che stai sprecando un sacco di potenziale se tu da vent'anni a questa parte che sei attivo per la comunità ti fossi focalizzato e specializzato su un qualcosa su quella cosa da qui lì oggi la comunità sarebbe molto più avanti invece hai saltellato da un progettino all'altro sei diventato molto famoso sui social sei stato invitato in televisione però a livello di impatto non abbiamo asset comunitari perché? perché hai saltellato da una roba all'altra ok? e io questo glielo dico francamente a queste persone qui quindi serve un progetto di vita che dia continuità e direzione e cumulabilità a ogni scelta e a ogni sforzo se lo sforzo che sto facendo oggi in realtà sta aiutando lo sforzo che farò fra dieci anni tutto in mezzo è cumulabilità è diverso da quest'anno faccio una roba l'anno prossimo comincio da zero da un'altra roba in un'altra roba quindi la forza della UMA non è altro che poi la somma della produttività dei suoi membri più persone lavorano in maniera efficace evitando dispersioni o un progetto di vita chiaro più l'intera UMA diventa capace di impattare positivamente ed è un principio che possiamo osservare in ogni grande civiltà la produttività individuale porta al successo collettivo ok e questa cosa qui è collegata anche al sogno americano guardate il cosiddetto sogno americano che ha spinto milioni di persone a lavorare per obiettivi personali questa mentalità ha portato al progresso economico e sociale degli Stati Uniti e per questo sono la più grande potenza mondiale ma noi abbiamo qualcosa di più nobile in questo momento noi possiamo vincere grazie a questa mentalità che è quella del progetto di vita fissabile che va oltre l'individualismo e si orienta verso il bene della umma e dell'umanità intera ok e questo lo vediamo nella vita dei Sahaba anche ognuno aveva un chiodo fisso Khalidul Walid era Seifullah Abu Huraira aveva questa fissa per raccogliere i hadith del profeta salallahu alaihi wa sallam e trasmetterli e come si chiama e come si chiama l'habbes abdullah no abbes era era come si chiama afaqahullah no quindi era molto sapiente e così via e ognuno si è dedicato a un qualcosa che nel tempo accumulando 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 è arrivato sempre più più in alto ok e il profeta salallahu alaihi wa sallam stesso la sua il suo progetto di vita era portare la parola di Allah subhanahu wa sallam e instaurare quindi una società basata sulla parola di Allah sulla giustizia sull'uguaglianza sulla fratellanza e quindi tutto ciò che ha fatto l'ha fatto per questo obiettivo qui a Mecca è stato paziente a Medina ha costruito una comunità e ha cominciato a costruire una nazione che poi si è allargata fino alle sue battaglie le sue trattative politiche era tutto finalizzato a questa missione a questo progetto di vita non ha avuto il profeta salallahu alaihi wa sallam una vita frammentata da obiettivi temporanei il suo progetto di vita era quello di unificare gli uomini sotto la parola di Allah subhanahu wa sallam quindi riflettiamo qual è il nostro ognuno può riflettere qual è il mio progetto di vita cosa sto facendo per contribuire alla rinascita della Ummah abbiamo tutti un ruolo da giocare non possiamo permetterci di vivere senza una direzione chiara questa cosa qui io l'ho detto anche pensando questa diretta qui l'ho portata avanti anche pensando ai nostri fratelli in Palestina i nostri fratelli in Palestina perché sono assodi perché nessuno gli aiuta perché nessuno gli aiuta perché non siamo in grado di aiutarli neanche se volessimo ma anche se i governanti sbloccassero la situazione e andassero in guerra guardate che Allah subhanahu wa sallam non ci ha dato dei governanti così a caso non ci ha dato dei governanti così a caso ovviamente è una cosa negativa avere dei governanti che vendono la causa palestinese quando parlo dei governanti parlo dei governanti del mondo islamico non tutti ma la maggior parte ha venduto la causa però anche se non l'avessero venduta cosa possono fare da una parte hai Israele non da sola con gli Stati Uniti l'Unione Europea e tutte le potenze occidentali anche se i popoli protestano i governi sono quelli che fanno la differenza come possono competere questi come cioè chi vuoi che competa con queste con questa potenza qui se non facciamo intervenire i cinesi non siamo in grado di aiutare i nostri fratelli se domani la Turchia che tutti sperano che la Turchia entra e aiuti la Palestina se domani la Turchia entra in Palestina viene sfracellata ma senza bombe economicamente basta il loro partner commerciale principale sono gli Stati Uniti e l'Unione Europea in cosa stiamo parlando? semplicemente la isolano economicamente senza parlare poi della parte di bellica considerate che il PIL il PIL cos'è? la produttività non degli Stati Uniti di New York New York è da sola è una città ha un PIL che da solo supera tutto quello del Nord Africa Egitto è incluso e Algeria è inclusa Marocco è incluso Tunisia è inclusa Libia è inclusa che ve ne pare di questa cosa qui? produttività la produttività di New York è maggiore di tutta questa roba vi rendete conto? vi rendete conto di questa cosa qui? cioè alla fine adesso parliamo della parte bellica se uno vuol vincere una guerra cosa deve fare? deve avere i soldi per finanziarla se se una città dell'Occidente supera tutto il Nord Africa con cosa la finanzi sta guerra? al massimo puoi fare resistenza quindi di cosa stiamo parlando? stiamo parlando di produttività la nostra UMA è poco produttiva è poco produttiva la nostra UMA è veramente poco produttiva quindi noi quando faccio questo discorso qui e dico ognuno di noi deve aumentare la sua produttività e per moltiplicare la nostra produttività dobbiamo avere un progetto di vita lo dico anche pensando ai nostri fratelli in Palestina che soffrono non solo non per colpa loro soffrono per la nostra debolezza per la nostra pigrizia per la nostra mancanza di produttività ora non significa che tutti dobbiamo alzarci è stupido non ce la faremo non avrebbe risultato alzarci e andare a difenderli bellicamente non è possibile ma possiamo creare presupposti affinché fra qualche anno o fra qualche decennio loro possano ricevere un aiuto importante da noi ok possiamo fare questa cosa qui possiamo creare i presupposti affinché i nostri figli eventualmente possano farlo non sempre sperando nei figli ma facendo il massimo che possiamo noi e dando il testimone ai nostri figli dobbiamo creare i presupposti affinché la umm sia abbastanza forte per opporsi alle 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 opporsi ai come si chiama alle ingiustizie la tifa dice che ne pensi che anche nel periodo dei sahaba c'era l'impero romano che era il più forte dell'epoca certo che c'era però vuoi confrontare la produttività dei sahaba contro cosa riusciva a fare un sahabi in una vita nei confronti di quello che riusciva a fare un romano o il leader cioè tu vuoi confrontare il livello di leadership di Omar con il livello di leadership di Herakl non è confrontabile è quella l'equazione è quella l'equazione ok è il discorso che facevamo nella rinascita della Umm del 2% ok quindi mi raccomando sta roba qui non sono solo rinascita della Umm ma si tratta di vite si tratta di bombardamenti si tratta di aver la forza di difenderci si tratta di aver la forza di opporci a delle ingiustizie non è solo un discorso opzionale stiamo parlando di un'emergenza un'emergenza che purtroppo non è risolvibile questa settimana o questo mese ma se non cominciamo non arriviamo se non intraprendiamo sto cammino non arriviamo quindi rinascita della Umm significa anche smetterla di vedere in televisione i nostri fratelli e le nostre sorelle e qualsiasi debole non solo della nostra comunità qualsiasi debole è smaciullato senza che nessuno possa difenderlo ok ecco a cosa serve perché la parola di Dio è quella che toglie questa ingiustizia quindi riflettiamo il nostro tempo è prezioso dobbiamo investirlo saggiamente canalizzando le nostre energie in un progetto che ci avvicini ad Allah che ci renda utili che ci renda utili alla Umm se avete bisogno rivolgetevi ai tutor chiedeteli di quello che possiamo fare per voi abbiamo iniziative gratuite abbiamo corsi gratuiti abbiamo qualche abbiamo alcuni servizi che ci richiedono un grosso impegno per cui sono a pagamento per tenere tutta questa baracca sostenibile ok però fate qualcosa non volete farlo con noi fatelo con altri non è un problema ma fatelo facciamolo lavoriamo su noi stessi e ricordiamocelo e partecipate alle varie serate perché così rinnoviamo questa energia questa carica perché poi adesso ognuno di noi si stacca va nella sua vita quotidiana e rischia magari di perdersi quindi noi queste serate le organizziamo per rinnovare lo spirito affrontando queste tematiche sulla rinascita da Umm sempre da angolazioni diversi e noi cerchiamo sempre di mantenere un approccio di equilibrio tra utilità personale e discorsi sui massimi sistemi in maniera tale che sia che sia utile effettivo effettivamente com'è andata vi è piaciuto com'è stato ah beh c'è una domanda di Smael in chat dove ah ok non ha senso che tutti debbano essere imprenditori allora ritorniamo ad appuntare così non ha senso che tutti debbano essere imprenditori ma per quanto riguarda avere un progetto di vita e diventare il leader del proprio settore al servizio della rinascita da Umm è possibile esprimerlo al massimo da dipendente o è inevitabile diventare imprenditore per massimizzare l'impatto o il libro può efflessionismo può essere una giusta via di mezzo dipende dipende facciamo un esempio facciamo un esempio di Sumeya Sumeya la direttrice di Strong Believer Sumeya ha la possibilità di dedicarsi a quella che è la sua missione di vita in una realtà esistente che è quella di Strong Believer ok avrebbe senso cioè ha più impatto iniettando il suo contributo in un'organizzazione che ha già una massa che già cresce e che continua ad attirare altri talenti ok e continua ad attirare altre persone con la stessa missione che quindi vanno avanti tutti insieme creando questo effetto palla di neve che è rotto laggiù e diventa sempre più grande o ha più senso che vada a crearsi la sua piccola organizzazione che magari comincia a crescere però è sempre lì a spalleggiarsi a spalleggiare per avere un un il suo spazio nella realtà cioè quello che fa Sumeya se deve usarlo per creare una nuova organizzazione il suo impatto magari è 100 ma se lei inietta il suo contributo in un'organizzazione esistente moltiplica il suo impatto se l'organizzazione esistente funziona ovviamente ci sono delle situazioni e a me è capitata questa cosa qui io a Strong Beliver Academy non la volevo creare a parte io avevo proposto all'interno di due organizzazioni islamiche esistenti in Italia ma sono stato frenato e paralizzato ma non nel senso che non mi hanno dato autonomia e volevo essere capo di me stesso no 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 sono stato proprio preso a pernacchie cioè io volevo rendere sostenibile il direttivo di alcune organizzazioni islamiche in Italia e gli ho proposto questo modello un modello basato su una community basato sul volontariato ma in cui c'è una leadership che riesce a lavorare a questa cosa qui full time come fa per esempio islamiche relive lo proposto proposto il modello non è fattibile non è fattibile una volta io mi dico questa roba qui non la dimentico ora mai la racconto sempre c'è stata proprio un'assemblea dei soci mi hanno preso come cioè mi hanno proprio in maniera ovviamente educata però si vede che l'andazzo era ma cosa vuole fare questo invasato ma perché proprio pensavano che il progetto non potesse stare in piedi effettivamente siamo i primi ci sono stati tanti progetti come il nostro che hanno fallito prima di noi siamo stati i primi a riuscire a farlo emergere e quindi a un certo punto io c'ho esatto ci abbiamo già provato brava Lina ci abbiamo già provato non si può fare era così mi hanno detto ci abbiamo già provato non si può fare io mi sono demoralizzato per un due anni dal due sì per due anni mi sono demoralizzato e alla fine avevo creato un piccolo bloggino in cui coltivavo un po' il mio sogno ma non concretamente poi è arrivato un certo punto che avevo mi ero caricato di brutto e alla fine ho detto crea una mia organizzazione cioè mia crea una nuova organizzazione per andare ad attrarre questi talenti in maniera tale che possano dare questo contributo qui quindi se avessi da allora da quei tempi stiamo parlando del 2016 se da allora io avessi creato strong believer o il modello di strong believer dentro quell'organizzazione oggi sarei molto più avanti sarei molto più avanti e l'impatto sarebbe molto più grande però in quell'organizzazione non era possibile quindi ci sono delle situazioni in cui essere dipendente ti dà meno impatto dell'essere proprietario di una nuova realtà ci sono delle situazioni in cui ci sono entrambe le situazioni ci sono delle situazioni in cui da dipendente sei frenato e ci sono delle situazioni in cui proprio perché sei dipendente hai un impatto molto più amplificato quindi non c'è una risposta netta dipende dall'organizzazione e dipende dal leader con cui sei ci sono leader che espandono l'impatto di una persona di coloro che fanno parte della loro squadra e ci sono leader che invece soffocano l'impatto ci sono leader che fanno crescere le persone ci sono leader che ingabbiano le persone perché hanno paura che crescano quindi dipende molto da questo Ismail ho risposto alla tua domanda Barakalofi con questa diretta è stata estremamente interessata e utile ora devo andare Salamu alaikum Sabrina Barakalofikum serata stimolante illumitante Barakalofikum Ismail dice che ho risposto com'è andata? qualcuno ha già detto che è stato molto stimolante qualcuno se ne sta già andando Gesekum Lohairan molto interessante mi raccomando i vari interventi che avete fatto metteteli nel gruppo ok e se posso chiedervi recensite un po' questa serata in maniera tale che le persone poi le prossime volte possano in qualche modo beneficiarne perché magari non sanno che esistono oppure pensano che sono noiose o cose di questo genere per cui recensitele ok recensitele cosa significa scrivete un po' sul gruppo dite ho appena finito la serata XYZ mi ha dato questo beneficio la cosa che mi è rimasta di più è questa e niente consiglio a tutti di partecipare per chi vuole partecipare poi lasciate magari il link per la newsletter se ci avete voglia se no lasciate solo una recensione che poi ce ne occupiamo noi va bene la tifa dice Gesekum Lohairan è stato utile per risvegliarmi mi raccomando guardate tutti il seminario la rinascita della Ummah ok lo trovate su youtube rinascita della Ummah strong believer siamo i primi ok guardatevelo perché lì rispondiamo a tutta tante domande sul tema proprio di questa rinascita della Ummah come la vogliamo da dove dobbiamo rinascere da dove viene su che analisi stiamo costruendo questo lavoro perché è importante che ci sia un'analisi dietro walhamdulillahi rabbil alami wassalamu alaikum se vuoi sbloccare il tuo potenziale diventare la migliore versione di te stesso al servizio della Ummah e dell'Islam iscriviti al nostro canale youtube e per rimanere aggiornato sulle prossime iniziative online e offline iscriviti alla newsletter trovi i link in descrizione ti aspettiamo